Le acque del mare in Puglia sono eccellenti nel 99,7% dei casi. La regione per il quarto anno consecutivo si conferma dunque prima in Italia per la qualità delle sue acque di balnazione, seguita da Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Toscana. Proprio questo è il risultato delle analisi microbiologiche condotte tra il 2020 e il 2023 dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, presentate oggi a Bari nella sede di Arpa Puglia. La vera notizia è il quarto anno consecutivo, significa un intero ciclo di monitoraggio, quindi significa un dato scientifico molto importante, che testimonia che quel lavoro sinergico tra istituzioni, stakeholder e decisori politici che ha funzionato in questi anni ormai si è consolidato. Abbiamo quasi 700 punti di controllo in tutta la nostra costa, facciamo più di 9.000 analisi all'anno dedicate a questo tema. Lungo i circa 1.000 chilometri di costa pugliese sono stati monitorati 676 tratti di costa balneabile corrispondenti a circa 800 chilometri. In ognuno di questi punti sono stati effettuati monitoraggi di diversi parametri meteomarini, mentre il laboratorio sono stati analizzati campioni per determinare la carica batterica. I controlli hanno così individuato solo lo 0,3% di acque di qualità non eccellente, ovvero alla foce del fiume Lauro, nella laguna di Lesina, lungo il litorale di Molfetta e nella spiaggia libera ginosa marina fiume. In tutti gli altri casi la qualità invece è eccellente. Noi abbiamo progetti di sviluppo sostenibile anche sulle acque di Puglia che possano incentivare la cultura individuale e collettiva di tutela dell'ambiente e dei beni ambientali come le nostre acque.